Siamo pronti? Siamo partiti. Sì, signor capitano. Sì, signor capitano. Ciao a tutti ragazzi, come state? Benvenuti in questo nuovo video. E dato che oggi... E dato che oggi lunedì, benvenuti ad un nuovo tutorial. Mangiamo che è meglio. Eh, infatti avevo una voglia d'uva. Cosa facciamo? Ah, tutorial. Però, tutorial, tutorial. Di cosa? Di un effetto di magia incredibile. Sono pronto. Deve essere, però... Con le carte. Prendi paura. Voglio andarmene. Ma adesso te ne vai. Mescola. Ok, come voglio, quanto voglio. Come vuoi, quanto vuoi. Solite domande. Ora, ti chiederò di pensare a due numeri. Due numeri. Uno tra l'uno e il dieci. Ok. E l'altro quello che vuoi. Ok. Però, quell'altro lo teniamo come numero segreto per il finale. Ok. Quindi per ora concentriamoci soltanto sul numero tra l'uno e il dieci. Va bene. Ti chiedo di fare due mazzetti con lo stesso numero tra l'uno e il dieci. Quindi se stai pensando tre, fai uno, due, tre, uno, due, tre. Certo. Ok? Ok. Io mi giro e non guardo, ovviamente, perché non devo sapere assolutamente nulla e parlo anche per non sentire il numero. Ok, perfetto. Ora, scegli uno dei due mazzetti. Ok. Mescolalo. Ti ricordi la prima carta. La fai vedere ovviamente al pubblico di spettatori. Yes. Ok. Ok. La appoggi in cima. Sì. Prendi l'altro mazzetto. Sì. Lo mescoli un pelino. Sotto. E lo metti sopra. Quindi la tua carta è da qualche parte in mezzo. Sotto. E te la ricordi, giusto? Sì. Ora, dimenticati questo numero di due mazzetti uguali. Ok. Ok. E concentrati sul numero segreto. Ok, ce l'ho. Ti chiedo di prendere tante carte dal mazzo di carte. Sì. Tante quanto è il tuo numero segreto. Per esempio, se stai pensando cinque, pensa cinque carte. Sì. 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 E prendi cinque carte. Ok. Le prendi. Ah, io continuo a parlare così magari non posso sentire. Le mescoli. E le metti sopra il tuo mazzetto piccolino. Ok? Sotto. Quindi, hai pensato al numero segreto che non hai mai detto a nessuno. Hai una carta in testa scelta completamente a casuale da uno dei due mazzetti. Esatto. Esatto. Il miracolo. Io proverò a mettere la carta scelta in corrispondenza del tuo numero segreto. Vado, eh? Che io non so, ovviamente. ovviamente. Credo... Eh... no. Ormai non ce la fai. No. No. Sì. Credo che sia qua. Fatto. Qual era il tuo numero segreto? Il mio numero segreto era l'undici. Esattamente, in undicesima posizione. Vado? Conta undici. Solito bastardo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Che carta era la tua? Il sette di fiori, se non sbaglio. Vai a vedere a tutti. Vado, ho paura. Sette di fiori. Ve lo spiego, ragazzi. Dai, spiegamelo. Trafigo. Allora, ragazzi, per questo effetto avremo bisogno, come avete visto dalla presentazione, di due numeri. Uno che è un numero tra l'uno e il dieci, quindi chiediamo allo spettatore magari di tirare, non lo so, un dado o di pensare ad un numero tra l'uno e il dieci. E gli chiediamo appunto di fare due mazzetti con lo stesso numero. Per esempio, Ayd, che numero avevi pensato tu? Io avevo pensato il cinque. Cinque. Quindi facciamo uno, due, tre, quattro, cinque. Uno, due, tre, quattro, cinque. Ma poteva essere sei, sette, dieci, otto, qualunque numero. Successivamente facciamo ricordare la prima carta di un mazzetto che ha mescolato, in questo caso la donna di quadri. Vi faccio vedere il gioco con la carta di faccia. Facciamo mescolare anche l'altro mazzetto e facciamo mettere tutto in cima. Ok? Quindi ci ritroviamo in questa situazione. La carta scelta è dispersa in mezzo a questo mazzetto, del quale noi ovviamente non conosciamo il numero. Successivamente chiediamo allo spettatore di pensare ad un altro numero. Tra l'uno e il cinquantadue ovviamente qua ci sono meno carte, quindi chiediamo allo spettatore magari di non andare troppo oltre. Anche perché gli chiederemo di tirar fuori dal mazzo di carte tante carte, tante quanto è il suo numero segreto. Per esempio Ayd aveva pensato il numero, dimmelo tu Ayd. Undici. Undici. Ma avviene ovviamente con qualunque numero. Per non fare la stessa identica cosa vado a prendere un altro numero che può essere per esempio il tredici. Tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici. Le carte ovviamente può tirarle fuori da dove vuole. L'importante però è che si ricordi questo numero. Chiediamo di mescolare le carte e di appoggiare tutto quanto in cima. Molto importante. Ora, con la scusa di andare dietro la schiena o sotto il tavolo dicendo vado a mettere la carta scelta, la tua, nella posizione corrispondente al numero segreto, quello che andiamo a fare è un miscuglio Klondike. Ovvero semplicemente questo. Andiamo a pelare la prima e l'ultima carta contemporaneamente, in questo modo. Prima e ultima. Prima e ultima. In questo modo. Fino a quando non finiscono ovviamente tutte quante le carte. Quindi andiamo avanti. state attenti a non prenderne più di una. Io tengo le carte in posizione di Biddle. E ovviamente se rimaniamo con una carta o con due carte appoggiamo tutto sopra. E successivamente, sempre e ripeto sempre, prendete le prime due carte e le mettete sotto. Ora, automaticamente, la carta scelta sarà in posizione del numero sconosciuto. In questo caso era tredici e la carta sarà in tredicesima posizione. Guardate. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici. Et voilà. Questa era la magia. Ovviamente funziona sempre con qualunque numero. Ve lo faccio rivedere per esempio con uno, due, tre, uno, due, tre. Mettiamo caso che la carta scelta sia il cinque di fiori. Appoggiamo sopra. Numero segreto è quattro. Prendiamo quattro carte e le appoggiamo sopra. Miscuglio Klondike. Prima e ultima. Ultima e prima, sì, insomma, come preferite. Io tiro via prima l'ultima e poi la prima. Vedete in questo caso erano rimaste due carte. Le appoggio prima sopra e poi le prendo manualmente, le sposto sotto. E la carta sarà in posizione numero segreto. Quattro, uno, due, tre, quattro. Et voilà. Questa era la magia. Come avete visto, super semplice, automatica e spero che vi sia piaciuta. Bene ragazzi, questo era il video. Tu hai di realtà, non servi più, ma ti faccio stare qua al finale. Mi è piaciuto però. Sì, ci stava, vero? Sì, sì, sì. Quindi fatemi sapere con un commento se vi è piaciuta questa magia e se l'avete provata in pubblico fatemi sapere ovviamente come è andata. Se volete acquistare mazzi di carte o qualsiasi altro tipo di gioco di prestigio, andate sul sito di Asso K, codice sconto, Jack Nobile e avrete il 10% di sconto. Lo sanno tutti ormai, anche mia mamma me lo dice, ti ricordi del codice sconto? Tua mamma acquista con il codice sconto Jack Nobile. Invece se volete imparare magia a partire dalle basi vi consiglio il nostro corso di magia, il principale corso di magia con Jack Nobile che vi lasciamo in descrizione. Io come al solito vi mando un mega bacio e un abbraccio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao raga. Ciao raga.